Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Fortcraft! Sono qui con Eme, Tia, Tano e Eren, come al solito. Yes! Ragazzi, siamo tornati sulla mappa orientale, ma oggi c'è una novità. Infatti abbiamo aggiunto... Tadà! Cos'è questa cosa che è in mano? Il jetpack! Sì ragazzi, il jetpack! Possiamo volare. Allora, dovete sapere che funziona a carbone, cioè un jetpack molto moderno, devo dire, comunque abbiamo mezzo stack di carbone che ci permette una buona autonomia. Una volta finito però precipitiamo, quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Quindi, voi siete pronti ragazzi? Sì signor capitano! E allora iniziamo a jetpackare! Oh! Oh, dai! Eren, per piacere fai partire pure il timer? Ok. Ok, 3, 2, 1... Io vado di qua adesso ragazzi, eh? Yes! Non sono mai andato di qua forse. Yuppie! Sì, vado di qua! No, perché c'è gente che va di qua? Vabbè, vado di là. Eh, ma infatti è quello che dobbiamo cercare di cambiare ragazzi, perché è più bello, si fa vedere anche qualcos'altro della mappa, sennò io non posso mai andare lì, vado nel solito posto... Giustamente, è confinato nei tuoi spazi. Ma... Vedi, vedi? L'ho visto, l'ho visto! Ma chi hai visto? Non solo l'ho visto, l'ho sentito anche. Guardalo, guardalo! Guarda che lezzo! Guardalo! Guarda Tano che sei una roba! Sei una roba di quelle! Cosa? Tano! No, non mi ha visto! Ho sentito caricare! Non potevi che non essere tu! Non l'ho caricato! E allora qualcun altro? Preoccupati perché non sono io, non l'ho caricato nulla! Allora... Cosa sta succedendo, raga? Rendetevi partecipi! No, tranquilli! E allora, ora mi intorno alla statua... Oh, ma stai lontano a battere via! Smeraldo! Questa è la mia zona! Ok, raga, saliamo! Qua si stanno già combattendo, questi due qua! Ma non ci siamo neanche colpiti! Dimmi! Mi sei planato di fianco! Sì! E io ho caricato l'arma e ho sparato a caso per farti spaventare! E io ho preso mezzo un cuore di danno, comunque! Eh, vedi che non ero io! No, no, ero io che... No, ma sai perché... E il blu dove era? Boh, si vede che anche tu sei qua, Tano! No! No, ti spiego cosa ho visto perché adesso l'ho capito! Siccome io in questa zona non ci vado mai, non l'avevo notato! Ma c'era in quella zona lì il tetto della... Della costruzione sotto, è azzurro con i tuoi blocchi! Quindi pensavo che fossi lì! Ahhhh... Spice! Tano ha il camouflage, praticamente! Ecco perché! Ora torna tutto! Ha il camouflage, Tano! Chi è il più spicy tra noi, secondo voi? Io! Pazzo! Pazzo! Per cazzo! Per chi tech? Perché non tech? Volevi! Allora, raga, dobbiamo... Quante pistole devo trovare? Dobbiamo fare una cosa a sto punto! Ah no, rai, mi hai fatto malissimo! Ti sei fatto male? Che pa... No, per fortuna c'è il mio medikit piazzabile! Ehi, ehi, ehi! Ma perché non devi essere pre-medikit, raga? Sì, infatti, raga, come è sta cosa? Infatti, anche secondo me... Io c'ho un problema, ma un grosso problema, ma tanto grosso! Io non sto trovando nulla di interessante, però qua, solo cose... Ah, ma ho capito io perché... Ah, raga, giusto! Adesso vi dico una cosa che non vi ho detto all'inizio. Se mettete il jetpack, togliete l'armatura. Quindi avete molta meno protezione. Ed è questo il motivo per cui... E me mi ha fatto un male assurdo! E mi ha lasciato con pochissimi cuori. Però ho ancora l'asso nella manica, potrei andare in mezzo al centro. Mi ha spottato? Oh, oh! E poi si è nascosto. Ho sparato a una pecora. Hai fatto bene. Sì, Riusli? Perché ha brucato l'erba e mi sembrava che era una persona accanto a me. Ma è una pecora o un brucco? Hai brucato l'erba? È spicy, però. Oh, ha brucato in quel senso un brucco. È un brucco. Nooo. Sei veramente ignorante. Comunque io vorrei dire una cosa di Tano. Mi ha sparato alle spalle. Non è vero, va davanti. Da davanti. Sì, ma io ero girato dall'altra parte. Non ti stavo vedendo. Eh, poverino! Mi sono girato dietro il pillar, sono uscito per rispondere al fuoco. Si è nascosto, è scappato via. Ma non è vero! Raga, non c'è più. Non è vero! Ragazzi, che mentitore! C'è un vigliacchio! Non è vero! Non è vero! Ci sono persone peggiori rispetto alle spalle. Ok, raga. Sono le caverne! Questa è da fare. Non so cosa te stia combinando, ma ho paura. Eh sì, sì, sì. Molta paura dovete avere. Spicy! Questo silenzio non mi piace. Eh, io sto un attimo scoutando l'area qua per cercare qualcosa e qualcuno. Uh, cosa ho trovato? Beh, questo ce ne ho già tre. Ne ho già tre di questi. Ma basta! Ma anche basta! Raga, ma cosa state facendo che sto silenzio qua mi fa paura? Io sono a giro, che cerco cose. Perché io sono ancora praticamente disarmato. Davvero? Sì. Cioè, ho delle armi orribili in quel senso disarmato. Ok, ok. Io, raga, purtroppo ho Tano che ha deciso di targettarmi dalle montagne. Se non ti va a nascondere. Non posso far niente. Guarda! Tano, cos'è che vuol fare? Fatti una vita! Fatti una vita! Tano, veramente sei ossessivo intanto, eh, con queste cose. Ragazzi! Cioè, cosa ti ha fatto e rendi così brutto o bello? Dipende. Ma non sono io! Ma ti vedo che sei tu! Ma ce la fai! Allora, dobbiamo cercare un po' di cose, perché siamo veramente messi male come armi. Quindi dobbiamo luttare assolutamente qua dentro. E vedi che non sono l'unico che mi sono male come armi, allora. Almeno questa cosa mi consola un po'. Io... Uh! Ok, Tec non è più... Rega, io, calcolate, non sto luttando, perché è una persona che mi targetta. Tec è diventato una sirena. Ma non una sirena, quella creatura mezza uomo, mezza pesce. La sirena, quella dei pompieri. Allora, io sono... Cosa, Tec? Sono molto... Uh! Di nuovo! Raga, di nuovo, c'è un altro incendi, aiuto! Raga, raga, ho trovato due cose spicy, molto spicy, tanto spicy, piccantissime. Adesso lo carichiamo. Chi ha sparato? Chi spara? È Tano, è Tano, chi rompe? Ma Tano ancora? Basta, Tano! Raga, ce l'ho ancora dietro! Ma ancora? Raga, oh, mi sposto, perché è l'incamperato e mi spara alle spalle. Ma puoi giocare una partita così? Ma cosa vuoi? Cosa vuoi da me? Uh! No! Adesso lo uccide. Eh, cioè, aiuto, aiutami, Aaron, uccide! Ciao, Tano! Aiutami! Ma cosa devo aiutare? Sì, ti ammazzi! Cioè, raga, oh! Vediamo che questo, raga, questo ci voleva. Si campera dietro il blocchettino, non fa nulla, appena mi sposto mi spara, ho tre cuori così. Ti sta bene che ho un medico, guarda. Allora, allora, vediamo un po'. Ragazzi, mi sta inseguendo col glider! Ma chi? Tiri! Oh, attenzione, attenzione. Tano, non ti vedo neanche più da quanto sei in alto. Dov'è andato Tano? Oh! Dov'è andato Tano? No, 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 no! Oh! Oh! Ah, bella Eve. Dov'è andato Tano? Oh! No! Oh! Oh, aia, aia! Evasione, evasione! Evasione, via, via, via! Per capire dove siete. Andavamo letteralmente volando sopra l'isola di spawn Comunque tutto questo Attivo la barriera No 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 vedo un TR che arriva Ma siete pazzi? Per fortuna sono ancora qua Eh già È partita la barriera raga Oddio Oddio raga oddio Pazzo Non mi avrei mai Ma cosa si 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 Ma ti lascio questo? No Ma intanto sono qua io No non l'avevo caricato Aia Sì 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 Dov'è andato? Dov'è andato? Oddio che disastro Oddio 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 Ma tu sei qua? No puoi Te lo dico io sotto l'isola Scusami pensavo di aver cliccato Va bene Va bene lo stesso Oddio Oddio sei ancora qua Ma è già morto? No ma ero convinto Non avevo schiacciato il tasto della Gamebo 3 Oddio 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 raga cos'è successo? Devo aver misciato il click Oddio cosa è successo? Ciao Tec bello volare Dove sei Tano? Boh Dannazione No raga Sono autofuel Non posso più volare Oh Rip Ripperoni Ora mi metto a scavare Non trovo il corpo Tano scendi Non possiamo stare qua per sempre No no io sto scrutando un attimo dall'alto Cosa vuoi? Sì eh Ho un cuore uomo Ho un cuore Cosa vuoi? Ti prendo Tano Ti trovo Tano eh Non è che ci lamentiamo di avere solo un cuore Infatti Raga è stata un'azione Io ho sparato a vista come si soltino Mi faccio un pochino sentire Oddio Bravo bravo Spariamo tutti a lui Spicy Mi state sparando raga A me Io sparò Ehi non vedo chi è Allora aspetta aspetta Vorrei adesso entrare nell'azione raga Io so dov'è l'azione Io ho appena fatto malissimo Cacca è vero ma c'è anche Eren ancora vivo Eh dai che mi spara le spalle Tano Mamma di no Quanto fa di schifo È Tech No è Tano questo Questo era mio Questo era mio ma E gli altri non sono di Tech Vedi? Cioè Ma ragazzi è tutta la partita che è camperato E mi spara le spalle Raga È spicy da sparire sta cosa Ah Dio Mamma mia Cosa non è successo raga Cosa non è successo Ciao Tech Sei bellissimo Una meraviglia Dove sei? Sotto quell'albero lì No Tano no Tano no Tano no Tano no Tano no Tano sei troppo in alto Per i miei gusti Volare E Tano è andato Quanti kill in questa partita Ma avevo nessuno Ok ok Tano che faceva dato il furbetto del quartierino Ma perché non potevi colpermi da così lontano? Come no? Ma in tutto ciò ti è mai arrivato la cecchinata Tano? No L'L96 fa davvero schifo raga Ce l'avevo centrato nel mirino Ah una volta no Una volta all'inizio mi è colpito Quando eri sull'albero Allora Allora Ragioniamo perché adesso qua è ancora più spicy la situazione Ma intanto Abbiamo chiuso la safe Si sta chiudendo Ah ok Quindi abbiamo allegramente Siamo allegramente Io ti dico Ho fatto 4 hit di Scorpion a Amy Esatto Ok buono Top E so dov'è Questo non vuole Ui No 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 È troppo spottabile sta cosa Ecco raga No 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 Calma 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 Non dobbiamo utilizzarlo troppo Preso Non ho visto dove sono gli altri Ma io li sto facendo una cross dei map Guarda che c'è la barrier Amy Uh Ma basta con queste Adesso ne ho tantissime Hitato di nuovo Allora Vogliamo uscire dai buchi Amy Dai buchi Ma ho un cuore Ho un cuore Dove è Amy Dove è Amy Lo trovo io adesso È nei fiori di ciliegio Il buon Amy Ah Ah Via No Mezzo cuore Non mi perde mai Ok ho visto tech No 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 Calma 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 Che sangue è freddo Cosa sta facendo Amy? Eh cosa fa? Si è bucato? No 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 Interrato il ragazzo Si è interrato? Dov'è che è interrato? Io lo voglio Mi vuole Allora prendete queste Caramellina Via di lì Via di lì No Raga no Tre cuori Oddio Cosa volevi fare Tec eh? Ho provato a fare una cosa Dall'alto Facciamo quelli Bombardieri Ti è piaciuta l'idea? Ti chiamerò Enolatek Enolatek Dai Così Violenta No dai Dove sarà finito adesso? Caramellina Ho lasciato tre cuori Accidenti Perché Questa cosa È spicy Allora raga Doviamo iniziare a fare Il lavoro Sporco adesso Io devo guardare Dappertutto Perché Yes No Me lo sono levato Finalmente Dannato scorpion Raga Mamma mia ragazzi Li stavo appresso Da un secolo Davvero Adesso dove sarà Tec però Io devo guardare Dappertutto Perché Yes No Me lo sono levato Finalmente Dannato scorpion Mamma mia ragazzi Li stavo appresso Da un secolo Davvero Adesso dove sarà Tec Dove sarai tu Anche Io la tento Tec Cosa vuoi tentare? Aspetta Ho fatto una stupidata Ho visto Non era Non funziona Come il deltaplano Dove sei? Yes Così in volo? Al volo Con l'L96 Yes Ma è che l'L96 Fa schifo Non puoi No non è vero Grandissimo Grandissimo raga Colpo da maestro è stato Non l'ho appena vista Queste cose Colpo di una cosa Che non si può dire Nel tuo caso Raga GG Volevo bombardarti Plana Cioè Con il jetpack Dall'alto Ma avevo tre cuori Ti giuro È stata bellissima Bellissima questa E dunque ragazzi Con una kill Devastante Di L96 Molto impreciso Riesco a portare a casa Questa partita Che è stata abbastanza Spicy Perché Sono stato massacrato Più volte Ma per fortuna Sono salito Ad appurarmi Un po' di volte Ho ucciso anche un Tearless Già morto Raga Però Fatemi finire L'outro Va bene ragazzi Passate degli altri canali E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 No.